Una strategia di trading, il tuo strumento per prendere decisioni personalizzate, per aiutarti a decidere cosa, quando e quanto tradare e per sapere quando terminare. Ma perché avere una strategia di trading? Ipotizziamo di operare sul forex, hai una posizione sull'euro dollaro, improvvisamente il mercato si muove contro di te. Trattieni i profitti ora o aspetti che si reinverta la situazione? Sul momento non è una decisione facile da prendere, senza una strategia questa decisione dipenderà solamente dalle tue emozioni. Una strategia di trading ti permette di prendere decisioni più logiche, proteggendoti da decisioni impulsive che potrebbero sbilanciare il tuo trading. Come si crea una strategia di trading? Innanzitutto si decidono gli obiettivi. Scrivi quello che vuoi raggiungere col tuo trading. Riesci a suddividerlo in obiettivi giornalieri, settimanali, mensili e annuali? Dopodiché si pensa alle proprie conoscenze. È importante essere onesti. Che tipi di asset conosci veramente? Che regioni, settori e mercati? Che tipo di persona sei? Quanto tempo e denaro hai da investire? Farti queste domande ti aiuterà a creare una strategia che ti rispecchi. E per quanto riguarda i rischi? Quanto capitale sareste disposto a perdere per operazione? L'1%? Il 5%? Se dovessi avere più posizioni aperte, quanto sei disposto a rischiare una volta? E per quanto riguarda il compromesso tra rischio e rendimento? Il rapporto rischio e rendimento più stretto è, meno puoi guadagnare per lo stesso livello di rischio. Lavorando su questo rapporto potrai scegliere quali trade fare e quali invece evitare. Ricordati sempre di prendere a punto sulla tua operatività un diario di trading. Ti aiuterà a vedere quale strategia funziona e quale devi cambiare. Abbiamo visto le basi nella strategia di trading. Sviluppa le tue strategie e assolutamente evita di farti prendere dalle emozioni.